Musica Misurare l'efficienza degli edifici è stato uno dei convegni, dei workshop più importanti di questa prima giornata di Smart Building Expo. Questo workshop è stato organizzato dal corso di laurea in management del Politecnico di Milano e dall'associazione Energy Manager di cui abbiamo qui come autorevole rappresentante Pasquale Capezzuto, a cui chiediamo appunto un parere a caldo su quanto di virtuoso è stato espresso da questo workshop. Allora il workshop ha fatto capire che ci sono tante potenzialità oggi, abbiamo tutte le tecnologie disponibili, abbiamo anche le tecniche normative, i progettuali per cui i costruttori, i progettisti oggi possono realizzare edifici di alto pregio, quindi non solo energeticamente efficienti ma che forniscono prestazioni globali di qualità. Ecco, quindi oggi tutto questo è possibile. Se aggiungiamo che dobbiamo anche sensibilizzare gli utenti al fatto che quando acquisto un edificio devono stare attenti a tutti questi aspetti e non solo ad alcuni settoriali ma in questo siamo anche ottimisti perché le nuove generazioni, i nuovi acquirenti sono più attenti appunto anche agli aspetti di sostenibilità dell'edificio dei consumi, non solo ecco alla piastrella di Versace o alla vasca di dorme a saggio. Allora questi sono motivi di ottimismo, quindi abbiamo tutto. Ci manca forse la governance, cioè... Sì, è stato un intervento che si è concluso proprio con un appunto su questa governance che viene un po' invocata, che finalmente è presente. Le leggi ovviamente devono regolamentare i comportamenti, il mercato e quindi è un sostegno, non è un aspessantimento burocratico. Cioè se noi abbiamo un framework nazionale che ci sostiene, che ci dice che devi fare un edificio in questo modo, che non è solo il mercato che te lo chiede, è chiaro che diventa tutto più facile. Se viceversa dobbiamo navigare nella buona volontà e lasciare alla virtuosità di qualcuno queste prestazioni, ecco diventa più difficile. Grazie dottor Capizzuto, buona serata, grazie. Grazie a tutti.